un cordiale saluto ai clienti di escamoshop in questo video vi presento una vi dimostro una custodia smart cover molto sottile per ipad 2 e ipad 3 compatibile con entrambi i modelli eccola qui la confezione proviamo ad aprire la confezione vediamo all'interno che cosa contiene qua vedete proprio la custodia eccola qui di colore azzurro un azzurro molto carino molto intenso l'esterno della custodia è fatto in gomma ecco è una gomma molto resistente antigraffio di un colore molto vivace che sta bene con il vostro tablet sta veramente molto bene è una custodia molto carina gli interni sono fatti in velluto ecco qui proprio per non dare la possibilità al tablet di andarsi a graffiare quindi state ben sicuri che non succederà mai nulla allora vediamo questa parte della custodia questa custodia è chiamata anche stand up e vi spiego subito il motivo allora praticamente questa custodia basta rotolare questa questa parte di custodia in questo modo come sto facendo io in questo momento e in pratica il tablet avete il tablet a 30 gradi una posizione di 30 gradi molto molto carina per andare a lavorare per andarci a lavorare oppure magari potete avere il tablet in una posizione inclinata leggermente inclinata così ecco non dovete sforgervi obbligatoriamente sul tavolo per andare a vedere il display desktop dicevamo la parte questa parte di custodia ecco ha una calamita questa parte qui sottostante è ricoperta da calamita quindi basta appoggiare questa parte della custodia sul display del vostro tablet e il tablet si va a spingere eccola qui in tutte le sue dimensioni perfettamente compatibili con entrambi gli ipad bene io con questo ho concluso il video ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima ciao